Run like hell, run like the wind Nuova puntata di 2-4 ruote e passioni motori in onda mercoledì 1 maggio alle 21 su NTV Web Si continua a parlare di velocità, si continuerà a parlare di motociclismo e lo facciamo insieme al Team Ross 24 che si presenta ai nastri di partenza del campionato italiano velocità classic con Luciano Visconti e con Piero Roma in studio anche il team manager Ezio Rospo meglio conosciuto come Rosmoto Abbiamo tirato su un bel T-Mezzo diciamo che salvo disgrazie uno di questi qua speriamo che vinca il campionato Abbiamo deciso di fare questo trofeo in Light Twin proprio perché l'età media è abbastanza elevata l'anno scorso ci siamo messi a confronto con ragazzini come Conte, Davide e tanti altri decisamente hanno un altro ritmo È stata un'esperienza di crescita sia a livello umano che a livello di pilota perché è stato il mio primo vero anno con l'Erosmoto e ormai si è creata una bella armonia proprio un bel rapporto con Ezio e con Piero ho un'amicizia che ci lega da un po' di anni ci siamo ritrovati in questo team insieme Mi raccomando non perdete questa puntata in onda mercoledì 1 maggio alle 21 su ONTV Web